Presidente Luigi Muro torna il sorriso dopo la sconfitta che aveva lasciato parecchia mare in bocca di domenica scorsa contro la Fragolesi. Sì, la sconfitta di domenica era meritata soprattutto per come era maturata, al di là che la Fragolesi è una bella squadra. Oggi abbiamo trovato un Volla ben organizzato, noi abbiamo giocato molto bene per lunghi tratti della partita. Poi una disattenzione ci ha fatto prendere il 2-1, abbiamo un po' sofferto ma il risultato non è stato mai in discussione. Quindi questa è una bella squadra, sul nostro campo sappiamo che soffriamo perché le squadre giocano coperte e il campo è un po' piccolo, però sono soddisfatto e credo che finalmente stiamo incominciando a andare secondo le nostre possibilità. Presidente, soddisfatto da Presidente ma soddisfatto anche da Papà, visto che il primo gol l'ha segnato Fabrizio. Sì, sì, va bene, quello è il classico gol che come si dice inganna i portieri. Sono contento perché ha giocato comunque con il cuore e con la grinta come tutti. Ho visto Agata con i crampi, Fragillo con i crampi, quindi sono dire che hanno messo tutto quello che avevano. E questo noi cerchiamo, la categoria è l'attaccamento alla maglia, questo noi cerchiamo. Mister Cibelli, come al solito, ha sempre fatto fare alle sue squadre un buon calcio. Quest'anno anche con giocatori di livello gli sta abituando a sacrificarsi, a giocare per la squadra, esprimendo anche un buon calcio, soprattutto in fase offensiva. Sì, Cibelli è sempre stato molto stimato da tutti, in particolare da me, che lo proposi come allenatore quando eravamo, mi pare, in prima categoria. Quindi sono molto contento. Ovviamente si gioca una carta difficile anche lui, perché come sappiamo l'allenatore viene osannato quando vince e viene criticato quando perde. Quindi all'appoggio della società, che noi siamo da sempre della teoria che gli allenatori devono lavorare con serenità e quindi questa oggi siamo tutti quanti soddisfatti.